Buongiorno a tutti ragazzi, io sono The Name Before Tokyo e oggi inauguro una nuova rubrica nel mio canale che parlerà del capitolo settimanale di Toriko, quindi una volta a settimana ci sarà un video sul capitolo di questo manga. Questo perché ho cominciato su Facebook a collaborare con una pagina che si chiama Toriko Spunti di Riflessione, vi metto il link qui sotto della pagina e diciamo state connessi con la pagina perché secondo me diventerà la miglior pagina italiana per quanto riguarda il manga di Toriko. Magari verranno organizzate più avanti anche delle live per cui state in collegamento se vi piace questo manga, ve la consiglio molto. Parlando brevemente del capitolo 265, quindi A Reign of Blessing, una pioggia di benedizione, diciamo così, è un capitolo chiaramente quasi simbolo di tutta l'opera, un capitolo che si pone a collegamento praticamente come il precedente, il 264, diciamo tra la prima parte e la seconda parte dell'opera. C'è stato infatti un salto temporale di un anno e mezzo, quindi adesso i protagonisti Toriko e Komatsu hanno tra i 26 e i 27 anni, grossomodo dipende, insomma, io mi aspetto che Shimabukuro come al solito metta appunto le descrizioni dei personaggi aggiornate dopo il salto temporale come aveva fatto anche all'inizio, che è una cosa che mi piace molto di Toriko. E diciamo c'è una piccola introduzione, quindi con una piccola storia in questo capitolo di un ragazzino che praticamente per far star bene la madre malata decide di prendere appunto, gli viene offerta, gli viene regalata una vera carota in un negozio di appunto di alimenti che rappresenta ora nel mondo umano un alimento quasi di lusso. Ecco, c'è stato dopo il Meteor Space di Midora di più di un anno e mezzo fa una totale devastazione del mondo, quindi praticamente il degustare i veri cibi, appunto l'assaporare, l'odorare dei cibi reali, che è una delle caratteristiche appunto principali praticamente del nostro mondo e soprattutto, diciamo così, ancora di più accentuata nel mondo, nell'universo di Toriko, è una cosa che ormai solo in pochissimi possono permettersi di fare e questo si vede chiaramente nel capitolo di come il cibo reale sia stato quasi interamente sostituito da del cibo appunto in pillole. Quindi la razza umana vive un momento di profonda crisi, un momento di profonda depressione e appunto nel pieno mezzo di questa crisi, di questa depressione, si vede arrivare praticamente l'eroe, cioè Toriko, appunto in una scena direi epica dove lui praticamente solleva sopra la sua testa una scodella gigantesca appunto che conterrà tonnellate di cibo e lui semplicemente facendo così con le mani, quindi dando dei piccoli colpetti, riesce praticamente a lanciare questi pezzi enormi che peseranno tonnellate appunto di cibo e dei vari cibi disparati presi nel mondo gourmet in giro per il mondo. Ecco, una scena direi quasi fiabesca che riassume un po' quello che è tutto lo spirito del manga di Toriko, appunto la figura della carismatica del fornitore dei alimenti di lusso che già vede appunto in Toriko la sua nuova stella, il suo nuovo astro nascente. Diciamo in tutta l'epicità della figura di Toriko viene proprio esaltata al massimo in questo capitolo, viene accolto proprio come un eroe, lo stesso Komatsu appunto che si rende protagonista di una scena altrettanto bella quando appunto mentre sta camminando cucina appunto in maniera incredibile una serie di alimenti e porge il piatto già pronto al ragazzino. Ecco, sia Toriko che Komatsu per quanto riguarda le loro capacità da un lato di fornitore di alimenti e dall'altro lato appunto di cuoco hanno raggiunto livelli veramente veramente alti. Ecco, uno degli elementi chiave del manga di Toriko sono appunto anche se vogliamo un po' oltre al carattere un po' fiabesco con il quale appunto viene presentato il protagonista anche le esagerazioni, è un manga volutamente esagerato sotto molti aspetti. Ecco, questa ciotola appunto è di dimensioni veramente apocalittiche ma questo è proprio il bello del manga secondo me. Un manga diciamo che fa sognare a occhi aperti. Ecco, a me piace molto soprattutto per questo. Tra l'altro vediamo ecco nell'ultima pagina anche che attualmente il direttore generale del Ligo dopo la morte di Ciryu, avvenuto un anno e mezzo fa, è diventato il numero 3. Quindi Mansam, al quale sono cresciuti i capelli, tra l'altro è diventato il nuovo direttore generale del Ligo. Tra l'altro vediamo anche appunto in ombra ovviamente quelli che sono Coco, Zebra e Sanni. Quindi nel prossimo capitolo probabilmente ecco mi aspetto che il quartetto verrà ricompattato. Ecco, magari non so cosa potrà succedere da ora in avanti. Io magari mi aspetto che questi quattro sovrani del cielo appunto magari vadano insieme in missione nel mondo del buon gusto poiché appunto il mondo del buon gusto ci doveva essere mostrato due capitoli fa e invece appunto abbiamo visto che subito nello scorso capitolo dopo un anno e mezzo che non c'è stato appunto mostrato Torrico e Comazzo sono tornati immediatamente nel mondo umano. Quindi nel mondo del buon gusto ancora non abbiamo visto nulla. Per cui magari mi aspetto che loro quattro insieme andranno nel mondo del buon gusto per cercare alimenti rari magari poi da importare nel mondo umano. Quindi faranno magari dei viaggi tra mondo umano e mondo del buon gusto all'inizio per diciamo per sfamare la popolazione mondiale per cercare di ricostruire un po' il mondo dopo la devastazione. Ecco, tra l'altro non sappiamo che fine abbia fatto Midora una cosa che mi sono chiesto nell'ultimo capitolo che fine abbia fatto Starjun quindi la mafia alimentare di Shokukai che fine abbiano fatto magari quelli della Neo. Quindi ci sono ancora un sacco di misteri che andranno chiariti. Per il resto niente, è un capitolo comunque molto simbolico dove appunto non è che succede chissà poi cosa però è appunto un capitolo molto significativo secondo me. Fatemi sapere voi come la pensate qui sotto nei commenti. Se volete iscrivetevi al mio canale The Name Before Tokyo iscrivetevi anche alla pagina su Facebook Torrico Spunti di Riflessione perché appunto vi assicuro che diventerà una delle migliori pagine in Italia per quanto riguarda Torrico. Un saluto al prossimo capitolo amici torichiani. Stay The Name. Ciao ciao.